Non c'è alternativa. Alcuni abitanti di Lipsia, capitale della Sassonia, land tedesco più colpito dalla pandemia di Covid-19 in Germania, sono a favore del lockdown duro che entrerà in vigore nel paese dal 16 dicembre per arginare i contagi di coronavirus. Oltre a bar e ristoranti, chiuderanno i negozi non essenziali e le scuole. Viene inoltre introdotto un coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino. Eppure, proprio all'Lipsia, a novembre, migliaia di persone si radunavano per le manifestazioni dei No Mask. C'era da aspettarselo e credo che debba essere così. Non c'è scelta, affermò un residente. Per me questi dati non significano nulla, sono irrilevanti. Si possono sempre interpretare in un modo o nell'altro. In questo modo si crea molta paura. Credo siano tutte misure sproporzionate e non adeguate, afferma questa donna. È spiacevole perché mentre si avvicina il Natale vorremmo comprare qualcosa di carino ai nostri amici o parenti, ma è necessario. Lavoro in ospedale, conosco la situazione, non è divertente, conclude un altro signore.